eccoci qua uces ciao ragazzi ragazzi eccoci finalmente arrivate con un nuovissimo spilling the sea with me cristiano cervini episodio dedicato all'aggiornamento dei ferragnex perché effettivamente quest'ultima settimana li abbiamo un po abbandonati per via del mega ritorno di temptation island no sto scherzando niente sigla e quindi stavo pensando secondo me i ferragnex vedendo tutti i miei video essendo appassionati di spilling the tea scusate era una mosca stavo dicendo essendo appassionati dei nostri spilling the tea avranno notato che ultimamente li abbiamo accantonati per altri argomenti molto più interessanti e quindi in queste ultime ore hanno deciso di fare uscire nuovi gossip nuovi spettegules perché mi devono far lavorare ragazzi devo pagare anch'io le tasse quest'anno sono altissime quindi mettetevi come gli andate a prendere il vostro drink o snack preferito mettete mi piace a questo video e continuate ad iscrivervi al mio canale perché raga la saga dei ferragnex e temptation island 2024 vi sta appassionando sempre di più anyway iniziamo subito che le cose da dire sono tante sorso iniziale e ci siamo iniziamo a parlare di fedez perché ormai tutti noi sapevamo eravamo convinti anzi siamo stracerti per via delle instagram stories dell'uno e dell'altra che ormai da qualche settimana si sta frequentando anche forse sembrava seriamente con la modella francese giovanissima classe 2004 se non mi sbaglio garance autie tant'è che lei avevo fatto tutto lo spilling the tea che settimana scorsa aveva raggiunto fedez a milano era stato con lui qualche giorno insomma la loro love story sembrava andare a gonfie vele ma se è questo che ci passa al convento in realtà ieri dal momento che sto registrando quindi per voi due giorni fa fedez è stato paparazzato con un'altra raga e stiamo parlando non di una new entry finalmente la voce non è più solo una voce perché abbiamo le foto abbiamo le prove fedez e taylor mega si sono visti hanno passato una serata insieme prima vi racconto cosa ho letto e poi vi dico ma come mai questa taylor mega è sempre nel mezzo ai ferragnex perché ne abbiamo parlato da mesi allora l'altra sera in poche parole sono stati bazzicati fuori dall'hotel casa cipriani fedez in compagnia di taylor mega ma non erano soli perché c'era un'altra coppia insieme a loro e si tratta di leonardo maria del vecchio che è un amico e socio di fedez e la compagna di questo leonardo jessica serferi ora siccome erano un quattro e l'altri due sono una coppia tutto mi dà da pensare che sia stata un'uscita quattro sapete quando si faceva i date in compagnia quando avevamo 13 anni perché ci vergognavamo a star da soli secondo me è successo questo anche perché non so se no taylor mega cosa ci possa rincastrare in questa uscita fatto sta che abbiamo la foto ufficiale di questo incontro ma l'investigatore social ci fa sapere che è stato soltanto una sera così un one night stand è stato soltanto divertimento perché tra i due non ci sarebbe niente di serio ora raga io qui ho bisogno di fare un altro ennesimo recap perché non ci si sta a capire più nulla ma fedez on stava con garan sautier che cosa ci rincastra taylor mega e quindi vi voglio dire la mia teoria del complotto che fa sì che taylor mega si è voluta in qualche modo infilare dentro il gossip dei ferragnex per far parlare di sé perché ha pensato che fosse un super scoop in quanto taylor mega nel racconto tra fedez e chiara ferragne ci rientra molto spesso però fino a questo momento non so se ve lo ricordate qualche mese fa io vi avevo già detto che c'era la voce che fedez e taylor mega si erano incontrati in gran segreto e che avevano fatto pem pem ma c'era anche la voce che fedez e taylor mega erano stati insieme durante il matrimonio di fedez e chiara ferragne e che quindi questo li ha portati a separarsi però tutto quello che vi avevo detto fino a oggi era soltanto una teoria erano soltanto voci di corridoio che è vero che di solito il 99 per cento delle voci di corridoio si rivelano poi vere anche perché se no perché ci dovrebbe essere gossip però o adesso abbiamo la foto e quindi bisogna fare un recap d'obbligo perché siamo arrivati ormai alla fine della quarta stagione dei ferragnex e non ci si sta a capire più nulla allora chi è taylor mega taylor mega showgirl diciamo influencer più che showgirl è l'ex fidanzata storica del trapper tony f poi si sono lasciati fedez nel frattempo ha avuto una lunga relazione di sette anni con cui ci si è anche sposato ok si sono lasciati anche loro e per qualche settimana abbiamo visto fedez in compagnia di tony f milioni di storie sembravano amici per la pelle fino a quando sono sparite queste storie i due non si sono più visti anzi si sono anche tolti il follow su instagram fino a quando tony f non ha dichiarato in radio che fedez gli aveva proposto di fare una canzone insieme ma lui aveva detto di no perché aveva già sesso e samba con gaia tutti abbiamo detto vabbè avranno litigato per quello perché fedez se la sarà legata ardito e quindi l'ha mandato a cagher ma in realtà c'era anche la voce che avevano litigato per colpa di taylor mega perché all'epoca c'era il gossip che fedez si era fissato con taylor e voleva uscire con lei e siccome era la ex storica di tony f tony f è incazzeto e quindi ha litigato con fedez ok vale fatto sta che il flirt tra fedez e taylor mega era rimasto così come voce di corridoio e fedez quindi si è fatto paparazzare con garanz a ut e con cui ad oggi dovrebbe avere una relazione cioè non stabile comunque deve essere tra le varie ancelle è quella diciamo più importante ok quella ufficiale nel frattempo però tony f ha iniziato a scambiarsi like con chiara ferragni ex di fedez e tra le altre cose chiara e tony sono stati anche avvistati insieme mangiare in un ristorante famoso di milano da qui raga cos'è successo taylor mega sul suo instagram aveva messo quella instagram stories famosa sentiti ridicola e noi l'avevamo vista come frecciatina verso chiara ferragni poiché chiara ferragni era uscita col suo ex e si diceva a tutti che tra tony e chiara era iniziato un flirt estivo ci siamo ma che è successo nuovi sviluppi vogliono tony e chiara ferragni non flirtare più ok magari anche loro sono stati in one night stand come ripicca al flirt tra fedez e taylor mega e quindi tony f adesso è affibbiato a giulia dell'ellis grazie anche al matrimonio di cecilia rodriguez e ignazio moser di cui abbiamo parlato questa settimana se ve lo siete persi qua sotto nell'info box e ve lo potete recuperare fatto sta che tutto ci fa pensare che tony f adesso abbia spostato la sua attenzione verso giulia ma che nonostante questo lui è un'anima libera spirit cavallo selvaggio mentre giulia nel frattempo vorrebbe in qualche modo una specie di esclusiva tant'è che abbiamo scoperto che voci direttamente dal matrimonio di cecilia e ignazio vorrebbero una giulia dell'ellis in cazzè nera perché ha trovato lui nascosto a fumare con una ragazza invitata al matrimonio e giulia dell'ellis avrebbe fatto questa mega scenata di gelosia ok chiara ferragni però in queste ultime settimane è stata affibbiata un altro ragazzo come flort estivo il ragazzo in questione è l'ortopedico toscano andrea bisciotti e quindi a questo punto tony f e taylor mega non c'entrerebbero più nulla nella soppopera dei ferragni ex fino a oggi perché se è vero che abbiamo visto fedez adesso paparazzato con taylor mega e quindi magari mi viene da dire se è stata la one night stand qualche settimana fa adesso sarà un two night stand ma si dice quindi che loro si divertano non si sa per quale motivo fatto sta che a fede si garbano tutto uguale alte magre e bionde ok abbiamo saputo il tuo tipo mi manca solo la parrucca bionda poi alta e magra ci sono fedez sospettami ma al tempo stesso ultimamente anche toni f oh io la capisco chiara ferragni ma come ci si fa destreggiare tra tutti questi fatto sta che di tutta risposta è stata paparazzata per la prima volta anche chiara ferragni in compagnia dell'ortopedico andrea bisciotti la foto è uscita direttamente in esclusiva da diva e donna che li ha paparazzati in quel di forte dei marmi e se non lo sapete ve lo dico io questo weekend chiara ferragni riesce a forte dei marmi anche se tra le instagram stories aveva detto con i suoi figli per stare in compagnia dei figli ma in realtà è stata paparazzata con lui quindi il fatto che i due almeno per quanto riguarda la loro conoscenza siano quantomeno amici è innegabile perché se no non è che stai in compagnia a armare con uno che non conosci ma tutti sono convinti che tra chiara e questo andrea ci sia ufficialmente un nuovo flirt tant'è che diva e donna titola queste foto così chiara beata col nuovo uomo e fedez tra gli scandali le prime foto con andrea ok quindi abbiamo fatto il ricappino della situazione tra facendo lo slalom tra tutti questi flirt fatto sta che ora dobbiamo capire se fedez ha lasciato garans per taylor o se garans come penso io è quella ufficiale ma che in realtà poi la sua voglia di divertirsi con chiunque praticamente alla meglio e quindi è tornata taylor mega ma cos'è successo raghi perché per chiara ferragni le bagagne non finiscono qua in quanto notizia dell'ultima ora vuole la chiusura del suo store qui a milano per chi non lo sapesse ci sono qua io il chiara ferragni brand aveva aperto nel lontano 2017 il suo primo store fisico proprio qui a milano nella zona che va tra piazza gaolenti e corso como quello fu il primo degli store aperti da chiara ferragni e io ci ho fatto anche shopping appena aprì ci abbiamo fatto anche moltissimi vlog perché all'epoca andava di moda raga fatto sta che secondo indiscrezioni di chi del settimanale chi di alfonso signorini questo negozio non arriverà ad agosto i primi di agosto chiuderà baracca e burattini per fronteggiare alla crisi che chiara ferragni sta avendo da quando è successo il pandoro gate la crisi del suo brand è dovuta anche al fatto che ultimamente ne abbiamo anche parlato abbiamo visto cose di abbigliamento e accessori firmati chiara ferragni addirittura tra le bancarelle dei mercati che erano super mega scontate era negli outlet perché nessuno più li comprava i negozi il negozio di roma era stato anche vandalizzato ma a quanto pare ora come ora non conviene più tenere aperto lo store fisico di milano e quindi ciao ne si è si è conclusa l'epoca del brand di chiara ferragni ora ragazzi queste sono le novità a quel ad oggi tra i ferragni di questa nuova stagione bisogna vedere come si risolverà e quali altri scandali arriveranno alle nostre orecchie perché l'estate è lunga secondo me loro si erano un po' adagiati negli allori perché pensavano che noi potevamo parlare dei loro flirt con toni f con garanz per tutta l'estate ma quando è entrata l'arci nemica di chiara ferragni no non selvaggia lucarelli ma giulia dell'ellis che si è sgraffignata toni f effettivamente è vero che loro diciamo per questi ultimi sette giorni erano stati messi un po in ombra e quindi adesso sono arrivate queste altre cose perché loro devono essere sempre in copertina ok e noi siamo contenti perché fino a quando spettacoliamo di loro e non di noi va benissimo bisogna soltanto capire come si evolveranno queste cose se chiara ferragni ufficializzerà veramente il flirt con questo andrea o se fedez ci dirà qualcosa sul suo instagram rispetto a questi gossip con taylor mega olt o ora come ora è fissato con silvio il su cane che io ve l'avevo detto e i golden retriever paloma e silvio erano i nuovi figli raga perché sono ovunque sui loro social soprattutto silvio raga però vediamo se ha voglia di rispondere noi siamo qui tutta orecchie per spettacolare per sapere insomma un po la sua è tornata anche in auge effettivamente sui social la teoria del complotto che vuole tutto questo essere finto che vuole i ferragni ex in combutta tra di loro in quanto si dice che io ve l'avevo detta all'inizio di tutto questo casino all'inizio della separazione vi avevo detto c'è questa teoria ma se fedez in realtà stesse facendo tutto questo e tutti gli scandali cristiano jovino le varie amicizie in discoteca le varie altre bionde soltanto per far per ristabilire in qualche modo la reputazione di chiara ferragni che era andata a puttene durante i mesi del pandoro gate facendola passare come povera vittima abbandonata dal marito che ci sta trasformando in un ragazzino e lei piano piano sta tornando ad avere sempre più consenso perché le persone possono impersonificare in qualche modo la sua persona di donna abbandonata dal marito ne avevamo parlato all'epoca vi ripeto e vi avevo anche detto beh può essere possibile perché comunque per fedez per come ne parlano basta che lui sia protagonista e non importa come ne parlano ma in realtà io tendo un po ad escludere questa cosa perché ok basta che se ne parli ma ultimamente fedez ci sta passando malissimo e quindi se è un po orgoglioso e un po ego riferito come penso non avrebbe mai accettato di architettare tutta questa cosa per passarci male perché ama così tanto sua moglie che la vuole un po salvaguardare però comunque questa è una teoria che è tornata in voga soprattutto su tiktok e quindi mi sono sentito in dovere di riportarvela fatto sta non ci sta a capire più nulla meglio se continuiamo a pensare a temptation island che adesso c'è la seconda puntata e quindi non vedo l'ora di fare la reaction fatemi sapere voi qua sotto tramite commento cosa ne pensate di questo finale di stagione shock dei ferragnex i commenti sono sempre aperti mettete mi piace a questo video in attesa di temptation iscrivete al mio canale e attivate la campanella per non perdervi nemmeno una notifica per ogni mio caricamento nuovo per oggi è tutto ci vediamo domani ciao ciao